Il gruppo Riflessi, con esperienza ventennale nell'abbigliamento e la profumeria, vi invita a visitare la nuova sede in via Mattine ad Agropoli, abbigliamento uomo-donna per tutte le taglie, dai teenagers alle taglie forti, accessori, bigiotteria, pelletteria, portafogli i-clip, profumeria fornitissima delle più grandi firme, profumi artigianali in esclusiva come Acqua dell'Elba e Cartusia, creme e prodotti di bellezza, trucco Diego Dalla Palma e Rouge Bézier, idee e regalo, gruppo Riflessi, abbigliamento e profumeria, con ampio parcheggio esterno, via Mattine, Agropoli, telefono 0974 83 87 66.